amici di motorsport.com ciao a tutti si è conclusa la prima sessione di prove libere del gran premio del canada che si sta disputando a montreal e in sala stampa c'è il nostro giorgio piola che saluto ciao giorgio ciao franco ciao a tutti allora una prima sessione complicata una grandinata ha preceduto il turno i piloti hanno deciso di girare prima con le gomme da bagnato poi con le intermedie e alla fine si è arrivati addirittura all'uso delle slick una sessione che sostanzialmente non ha dato alcuna indicazione utile per dovere di cronaca diciamo che c'è davanti a tutti i lando norris seguito dalle due ferrari ma l'aspetto interessante è che nonostante queste condizioni particolarmente difficili i primi 20 minuti la pitlane è stata mantenuta chiusa per dare modo ai commissari di percorso di ripulire e togliere l'acqua dalle pozzanghere ci sono stati diversi esperimenti quello che mi ha colpito di più è quello della red bull la squadra campione del mondo evidentemente ancora le prese con i problemi legati al saltare sui cordoli delle sospensioni e raccontaci tu che che cosa hai visto e che cosa possiamo vedere ovviamente hanno dei messo dei bollini bianchi sul tirante del pull rod della sospensione anteriore poi anche uno sulla presa dei freni evidentemente per verificare la flessione di questo elemento quindi ovviamente c'erano sulla macchina di perstappen c'erano delle camere telecamere che puntavano proprio sui tiranti e abbiamo visto appunto che lo hanno impiegato in maniera proprio massiccia per tutta la sessione sono stati fatti anche esperimenti con l'ala posteriore con l'ala posteriore di perstappen che era nuova verniciata del flow vix sulla parte eh posteriore destra mentre quella di del compagno di squadra Perez a sinistra anche questo era un'ala nuova bisogna dire che Montre arriva subito dopo Monte Carlo due eh piste da un'aerodinamica completamente diversa a Monte Carlo non importa molto l'efficienza si cerca di come si dice in cerco aeronautico di mettere giù tutta la biancheria i panni a stendere invece la pista di Montreo è la prima da medio basso carico con ali un po' tutte le squadre hanno portato ali nuove ali che poi verranno utilizzate anche a Baku Singapore ovviamente anche a a Spa e e quindi da questo punto di vista è stata abbastanza interessante perché abbiamo visto un po' tutte le squadre con soluzioni nuove. Quella più interessante devo dire è quella della Sauber perché già a Monte Carlo aveva introdotto una nuova filosofia una nuova generazione di ale posteriore col monopilone non più il doppio e tutti gli elementi dell'ala diversi paratie laterali profilo principale flap diversi qui sulla sempre la stessa famiglia monopilone è stata introdotta un'ala appunto completamente rivisitata in tutti questi elementi. In caso di pioggia molto probabilmente potrebbero optare per la soluzione a doppio pilone che permette più carico e che è già stata verificata in precedenza. Ecco un aspetto curioso Giorgio è la Mercedes che si ostina a non fermare lo sviluppo della U15 nella convinzione di James Allison che ci sia un potenziale molto maggiore rispetto a quello che si vede regolarmente in pista. Abbiamo visto prima delle prove musi e ali anteriori nella versione chiamiamola con il tirantino nella parte vicina più vicina al muso il cavetto come l'avevamo sopromminato e una versione più recente sulla quale Lewis Hamilton aveva scommesso da abbinare a delle cover dei bracci della sospensione che sono stati cambiati per cercare di migliorare il flusso d'aria verso i canali venturi del fondo. Che idea ti sei fatto Giorgio? Io credo sia invece una risposta un po' più banale. avevano portato finalmente la nuova ala anteriore che a Monte Carlo aveva soltanto Russell e l'hanno portata anche per Hamilton. Però col fatto della pioggia, col fatto della pista che poteva chiare insidie io credo che abbiano optato per la soluzione come quella che hai detto tu a cavetto perché evidentemente hanno pochi esemplari di questa ala nuova. Addirittura a Monte Carlo ce n'era uno solo quindi Russell non aveva nemmeno l'ala di scorta in caso di incidente. Qui visto perché ti assicuro è stata una grandinata ma proprio pazzesca. Tra l'altro un cambiamento di tempo incredibile in pochissimi minuti. Si è passati dal sole persino fin troppo caldo a un'acquazione, un freddo e una grandine per cui hanno credo optato per questo primo turno per l'ala diciamo vecchia per evitare di danneggiare quella nuova che evidentemente ne hanno poche. Ovviamente avremo la verifica in FP2 di questa mia idea. Mentre è stato interessante vedere le due monoposto, vabbè i bracci delle sospensioni tiranti dello sterzo e il braccio anteriore allineati che è una soluzione che era già stata vista in precedenza. Ma la cosa interessante è due prese dei freni anteriori diverse. Quella di Hamilton decisamente maggiorata è dotata anche di sensori e tubi di pitot per appunto verificare il flusso all'interno. Invece quella di Russell tradizionale e anche qui dipenderà tantissimo dalle condizioni del tempo perché poi quella maggiorata di Hamilton a un certo punto l'hanno parzializzata perché ovviamente con l'acqua non c'è più bisogno. Ricordiamolo che Montre era uno dei circuiti più duri sulle frenate quindi tutte le squadre hanno lavorato molto per migliorare il raffreddamento dell'impianto raffreddante. Ecco abbiamo pubblicato su motorsport.com i tuoi disegni dell'impianto Brembo utilizzato sulla Racing Bulls. Anche lì hanno adeguato sia i dischi della multinazionale bergamasca con il massimo dei fori concessi dal regolamento sia con l'estensione delle prese d'aria necessarie a smaltire il calore che le sei terribili staccate di Montreal creano su questi impianti. Sì, un po' tutte le squadre hanno lavorato su questo. Per esempio in Red Bull è stata maggiorata l'uscita dell'aria, l'evacuazione dell'aria calda dalle prese dei freni anteriori e poi un po' anche tutte le altre squadre hanno lavorato in questa direzione. C'è da dire, a proposito dei dischi Brembo che appunto Red Bull, Racing Bull o Bull Race, come si dice, sai che io sbaglio sempre, credo fra l'altro di averlo messo sbagliato anche nel disegno che ho mandato. Hanno dei dischi con fori diversi, per esempio rispetto a quelli della Ferrari che utilizzano un altro, sempre l'impianto dei dischi Brembo totale, però con dei fori diversi. Ecco, facendo l'analisi delle squadre top c'è solo da aggiungere che nella lista presentata dalla FIA la Ferrari non ha dichiarato novità. In realtà a noi risulta che, siccome le novità che normalmente vengono dichiarate sono quelle visibili da un punto di vista aerodinamico, a noi risulta che si dovevano provare delle nuove barre nella sospensione posteriore che dovrebbe aiutare la SF24 a migliorare la trazione nelle curve lunghe e lente, cioè il punto più critico della vettura. Ovviamente tu me l'hai segnalato, io sono stato davanti al box Ferrari sperando che un meccanico, perché so nel punto dove vengono levate le barre di torsione, so nel punto dove viene levata la barra anti-rollio, però ovviamente è tutto coperto dalla parte centrale della vettura. Quindi l'unico attimo che si può capire se le hanno cambiate, se le hanno utilizzate, cosa possono aver fatto, nell'attimo che il meccanico sfida appunto questi elementi della sospensione e non ho visto niente. Ma oggi sicuramente non sono andati a fare modifiche di setup rispetto alla condizione base, l'importante era dare ai piloti la possibilità di prendere un po' di confidenza, soprattutto con il nuovo asfalto. Ecco, va detto che a Montreal c'è sempre stato un asfalto da semicittadino, quindi con pochissimo grip. La sensazione è che essendosi asciugato molto in fretta il manto, un miglioramento ci possa essere stato. Hai avuto anche tu questa sensazione, Giorgio? No, purtroppo lo sai che io queste sono sensazioni che purtroppo non riesco mai a vivere perché sono davanti ai box a guardare le soluzioni e non riesco e non si può parlare con nessuno perché in piena azione credo che mi becherai dei ceffoni se andassi a chiedere come l'asfalto a un pilota. L'unica volta che mi è capitato tantissimi anni fa, mi ricordo che era stata una situazione magica, pensa quando Nigel Mansell guidava la Fappapera e ha vinto in Brasile, io ero arrivato, dovevo fare per il quotidiano un parallelo, tutte le domande, sai tutti i gusti, cosa leggi, che film, guardi, tutte queste cose che piacciono tantissimo ai quotidiani e Nigel Mansell per quella sessione di prove era venuto in ritardo, ma all'epoca era tutto un altro ambiente in Formula 1, pochissimi giornalisti, poi molto più libertà e mi ricordo che feci l'intervista accucciato a fianco alla monoposto mentre Nigel doveva iniziare le prove, si è chiuso le cinture, mi ha risposto, poi ovviamente alzato il dito perché a quell'epoca c'era questa gestualità per dire ai meccanici di mettere in moto è partito, ovvio che oggi durante le prove andare a chiedere come l'asfalto non è assolutamente possibile, però sì, credo che sia migliorato, ne aveva parlato anche Mario Isola ieri dalle quello che avevano visto, quindi evidentemente dovrebbe esserci un miglioramento. Ecco, la grande novità del weekend, Giorgio, è stata la presentazione da parte della FIA delle monoposto che debuteranno nel 2026. Si tratta di una proposta regolamentare che dovrà essere approvata dal prossimo Consiglio Mondiale della FIA, ma si sente già rullare dei tamburi dei team principal che hanno penso qualcosa di cepire rispetto a quello che è stata la linea guida portata avanti dalla FIA. Tu che idea ti sei fatto vedendo queste macchine? Che è praticamente un tornare quasi a prima di queste monoposto a effetto suolo, perché è stato rintrodotto un fondo piatto e il diffusore è stato molto limitato rispetto a quello delle attuali vetture. Quello che c'è è sembrano vetture finalmente un po' più compatte, più piccole, il passo è 30 centimetri più corto, 20 centimetri più corto, quindi la larghezza totale è di 10 centimetri più stretta, quindi vetture un po' più piccole, più leggere, quindi decisamente più maneggevoli. A me non dispiacciono più pulite, adesso abbiamo visto purtroppo la federazione quando aveva introdotto queste monoposto a effetto suolo aveva messo tantissimi limiti, però abbiamo visto che col passare degli anni una marea di soluzioni per creare vortici, sia nell'ala anteriore con tantissimo outwash, aprendo un po' tutta la zona di attacco tra i flap e le paratie laterali, lungo tutto il fondo nelle fiancate, tutta quella soluzione di archetti, di tagli che hanno creato vortici, hanno sì migliorato l'aerodinamica, ma poi hanno peggiorato quello che era lo scopo di questo regolamento, cioè per mettere maggiori sorpassi perché l'effetto scia si è di nuovo sporcato, mentre nella prima stagione quando il regolamento era rimasto un po' più bloccato e le fantasie degli ingegneri non erano andate oltre, l'effetto scia era decisamente diminuito e i piloti si erano trovati bene. In questa stagione abbiamo visto spesso i piloti lamentarsi perché di nuovo la scia è molto più sporca e quindi arrivando sotto. Quello che mi ha colpito tantissimo è la sostituzione del DRS legislato che si poteva utilizzare soltanto quando si arriva sotto un secondo, poi con un'apertura ben precisa. Adesso invece questa aerodinamica B è diversa, due soluzioni completamente diverse, una molto scarica che addirittura l'ala anteriore ci sono tre elementi e così tre elementi in quella posteriore mentre fino adesso gli elementi erano quattro davanti e due dietro, ma non si muove più soltanto il flap del DRS posteriore ma si possono muovere gli ultimi sia davanti che di dietro perché ovviamente riducendo così tanto il drag e quindi migliorando l'efficienza e la velocità dell'ala posteriore anche quella anteriore deve essere bilanciata. Quindi c'è questa soluzione e la cosa che mi nasce un po' perplesso è che è stata totalmente libera ai piloti perché lo possono fare a loro piacimento e mi viene da pensare che magari qualche volta qualcuno voglia rischiare un po' troppo magari per avere la maggiore velocità, mentre invece è interessante la possibilità di superare viene data dalla differenza di potenza che si può utilizzare questo Surplus per poter sorpassare che quindi dovrebbe essere interessante. A me non dispiace come macchina perché è decisamente più pulita, non ci sono più quei copriruota, semicopriruota, quelle davanti che creano tanti problemi di visibilità tipo nelle piste come Monte Carlo perché non sembra ma impediscono tantissimo la visibilità delle ruote anteriori. Quindi in definitiva a me non dispiace come monoposto. E l'ala stretta davanti con quelle poi due appendici esterne? E quello mi fa un po' pensare perché io l'ala stretta, io sono sempre stato contrario all'ala larghissima perché è un'inutile occasione di danneggiare le ali, avere frammenti di bicarbonio in pista, piloti che devono rientrare, per cui a prima vista, quando ho visto l'ala anteriore decisamente più stretta, ovunque bello, l'ala a filo praticamente delle ruote anteriore, poi quando ho visto la zona del marciapiede, la zona esterna estremamente larga, sono rimasto un po' scettico. Evidentemente lo hanno fatto per cercare di aiutare l'aerodinamica e avere, nonostante l'ala più stretta, un buon carico all'avantreno. Mentre quella del retrotreno, l'ala mi sembra decisamente più larga rispetto a quella attuale. Adesso vedremo quali saranno le battaglie che andranno a portare le singole squadre per far cambiare i vari concetti, perché fra le cose non espresse c'è molto probabilmente il divieto di poter comprare i bracci e le sospensioni da una squadra a quell'altra come sta avvenendo oggi. E questo significa che un team come la Haas, piuttosto che l'Aston Martin che compra il retrotreno intero della Mercedes, non lo potrà più fare. Quindi cambieranno molti assetti e molte situazioni. Giorgio, grazie della disponibilità, ci sentiamo durante il weekend. Amici di motorsport.com commentate qui sotto, fateci sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale cliccando la campanella. Ciao a tutti, ciao Giorgio. Ciao, buonasera a te.